Evitare le scene dello scorso fine settimana con assembramenti di ragazzi, peraltro senza mascherine, ma allo stesso tempo provare a dare ancora un po' di fiducia ai giovani. È l'indicazione che arriva dalla riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto oggi in videoconferenza coordinato dalla Prefettura di Benevento. Al centro dell'incontro la Movida che si è concentrata nella zona di Piazza Risorgimento che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato di voler chiudere a persone e auto nel prossimo fine settimana. Propone invece una linea più morbida il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza che vorrebbe concedere ai ragazzi una seconda chance. Solo se assembramenti e comportamenti scorretti persisteranno si procederà alla chiusura. Un altro parere negativo dunque per l'ipotesi restrittiva appaventata dal sindaco Mastella dopo quello dei gestori dei locali della Movida che avevano giudicato inutile l'idea del primo cittadino. Se chiude la piazza i ragazzi si sposteranno altrove, avevano annunciato. E sembra invece certa la disposizione che vieterà la vendita di bevande in vetro.